Continuiamo a parlare di mercati e dei provvedimenti eccezionali messi in campo dalle banche centrali, Fed, BCE e non solo, lo facciamo con Lorenzo Binismaghi, economista, presidente di Societe Generale, già membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Grazie professore per essere qui con noi al TG Economi24. Buongiorno. Professore, le banche centrali, soprattutto la Fed, si sono mosse con repentinità, con prontezza, nonostante però i provvedimenti annunciati, i mercati non si sono affatto rassicurati. Che cosa non ha funzionato? La tempistica, i provvedimenti che sono stati poi scelti oppure ci si aspettava un'azione della politica più coordinata? No, è impensabile che l'azione delle banche centrali da sola possa sostenere i mercati. Qui innanzitutto l'obiettivo è sostenere l'economia più che sostenere i mercati. E i mercati ora stanno anticipando probabilmente una recessione che durerà a vari mesi a livello globale. L'obiettivo in questo momento è di mettere delle misure che riducano l'impatto di questa recessione e favoriscono una ripresa rapida dopo. Di queste misure quelle di politica monetaria sono importanti ma non sono quelle fondamentali. Perché la politica monetaria può mettere a disposizione del sistema la liquidità ma poi questa liquidità va utilizzata e va messa a servizio dell'economia attraverso poi maggiori consumi e investimenti. E dato che il settore privato è in crisi deve entrare il settore pubblico. Questo vuol dire che ci vogliono delle misure del settore pubblico, di deficit pubblico, di investimenti pubblici e questi richiedono un po' più di tempo per essere messi in atto. Dunque non darei un giudizio dopo due o tre giorni solo sulla base della reazione dei mercati. Bisogna vedere l'insieme delle misure e bisogna vedere anche quanto durerà questa crisi. Le misure della politica. La Commissione europea si è mossa già lo scorso venerdì promettendo flessibilità nello sforamento dei parametri europei di bilancio. Ma forse non servirebbe anche qualche strumento nuovo, forme di sostegno proprio a questo debito che i paesi dovranno necessariamente contrarre. Qualcuno ha parlato di Eurobond di scopo, addirittura li ha chiamati Solidarity Bond. Cosa pensa di queste nuove misure? Potrebbero essere davvero utili in questo momento? Il Bond è un'emissione di titoli, poi questi titoli che raccolgono fondi vanno utilizzati. Credo che la difficoltà in questo momento è anche capire come utilizzarli, cioè a chi vanno questi fondi. Perché è impensabile in questo momento, per esempio, in cui il sistema economico è chiuso, che si vada a fare delle infrastrutture o che si vada a fare grossi investimenti. Probabilmente nell'immediato è sostenere i redditi e dunque ci vogliono degli strumenti di sostegno al reddito. Come finanziare tutto questo? È chiaro che c'è una dimensione europea e c'è una dimensione nazionale. Perché è difficile pensare che a garanzia di titoli di Stato europei per pagare magari dei stipendi in un dato paese si debba mobilitare risorse di altri paesi. Dunque bisogna mettere insieme strumenti nazionali ed europei. A me sembra che il governo abbia preso delle misure sulla base di quello che conosciamo oggi adeguate, che poi potranno essere rafforzate. Ma bisogna anche essere concreti ed evitare di sparare i numeri senza conoscere la realtà. Poi man mano che questa realtà si conoscerà, se peggiorerà, si potranno rafforzare questi strumenti. La Banca Centrale Europea ha dato la sua disponibilità a comprare i titoli di Stato per finanziare questi interventi. I tassi di interesse sulle linee di credito alle aziende, soprattutto quelle piccole e medie, si riducono a mero 0,75. Insomma c'è un insieme di misure che sono pronte. Il mercato naturalmente è preso un po' dal panico, la gente ha paura, si vendono le azioni, si vuole tenere liquidità, ma questo non è un segnale, secondo me, dell'efficacia o meno delle misure. Ecco, non bisogna valutarle sulla base delle reazioni del mercato. Presidente, ma il cui è uno strumento ancora utile, lo ricordiamo, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse nella scorsa riunione di giovedì, il tasso di finanziamento principale attualmente a zero nell'Eurozona, quindi ha un po' le armi spuntate in questo momento, Francoforte. Ecco, lì c'è stato comunicato, oltre alla GAF della Lagarde, secondo me lei si è dimenticata anche di dire che in realtà il tasso di interesse, quello di finanziamento generale, è rimasto a zero, ma per le aziende è sceso a meno 0,75, cioè c'è un tasso negativo, cioè la BCE dà dei soldi a chi prende a prestito. Poteva essere un messaggio positivo importante. Esatto, poi le analisi, gli analisti poi il giorno dopo l'hanno guardato con attenzione, perché non è solo sui nuovi prestiti, anche sui vecchi prestiti, cioè le aziende possono ricontrattare il tasso di interesse dei loro vecchi crediti. Oltre a questo, naturalmente il QI è aumentato, cioè il numero di acquisto di titoli di Stato è passato da 240 miliardi all'anno a 360. Insomma è un inizio, poi vedremo quello che è necessario, l'importante è che il nuovo deficit che verrà fatto dai vari paesi possa essere finanziato in modo facile, se necessario direttamente dalla Banca Centrale Europea. Questo strumento è utilizzato. Le citava la conferenza stampa di Christine Lagarde dello scorso giovedì, la prima prova difficile a cui la nuova Presidente della Banca Centrale Europea è stata chiamata. Qualcuno ha parlato di scivolone, di gaff, di parole infelici, ma il suo riferimento allo spread, al fatto che la Banca Centrale Europea di fatto non controlli come sua missione lo spread tra i titoli di Stato, è piuttosto l'indicatore di un cambio di passo, di una nuova linea di pensiero. La Lagarde, si dice da più voci, sostiene forse la linea dei falchi tedeschi in politica monetaria, è così? No, direi che non è così. La Banca Centrale Europea ha uno strumento per intervenire che si chiama OMT, lo strumento è sempre lì, è a disposizione, se necessario verrà utilizzato, ci sono delle condizioni per utilizzarlo. Io sarei molto attento in questa fase in cui l'Europa deve lavorare insieme tra i vari paesi a cercare dei complotti a destra e a sinistra. L'istituzione, io ho lavorato alla Banca Centrale Europea prima di Draghi e poi è venuto Draghi, c'è un lavoro collegiale, qualcuno la può pensare in modo diverso, direi che in questi anni sicuramente chi aveva delle visioni più estreme, i cosiddetti falchi, sono stati in minoranza e rimangono in minoranza, per cui non vedo nessun atteggiamento anti-italiano in questo momento. A proposito delle scelte dell'annuncio della Consub venerdì e oggi di limitare, di vietare le vendite allo scoperto, un provvedimento a suo avviso giusto o i mercati devono rimanere in questo momento assolutamente liberi? I mercati in questo momento sono molto illiquidi, infatti si vede da questa variabilità molto elevata da un giorno all'altro, possono scendere tantissimo, poi recuperare, questo di vietare la vendita allo scoperto può essere una scelta positiva perché calma i mercati, però in alcune condizioni può anche produrre l'effetto opposto, la paura di non poter vendere, liquidare un portafoglio può spingere le persone ad accelerare la vendita e non escludo che questo abbia avuto un impatto in passato, negli ultimi giorni, questa paura poi alla fine spinge le persone non a vendere allo scoperto, ma a vendere cash, dunque va valutato con grande attenzione questo strumento, tra l'altro non può essere utilizzato per un periodo molto lungo perché se pensate, non so, se chiudiamo i mercati per una settimana e questo crea veramente il panico tra i risparmiatori e gli investitori, il rischio è che si venda molto più poi.